ciao a tutti eccoci qua in un nuovo episodio della spesa di papà il divo eccolo qua sta facendo un altro alberello sta creando ciao dai saluti soliti saluto a sarà francesca francesca cristian cristian tutta la media world di vittone vittone la valentina arese tutti quanti tutti i tuoi fans eccolo qui eccolo a tutti buona domenica buona festa domani non è domenica papà non è domenica è il 25 buono 25 oggi sei sei pronto sei carico eccolo qua la mozzarella fa vedere le mozzarella a vedere mozzarella bufala b cuomo si chiamano cuomo vero mozzarella cuomo dunque la mozzarella di bufala campana 2 euro e 79 a 59 e 59 fior di latte cuomo 1 euro e 60 questa qual era la mozzarella di bufala e la fior di latte che quella che c'è in mano e 3 ore e 98 eccola qua doppio impacchettamento qui sarà questa è la fior di latte me l'ha fatta assaggiare e quella lì è la bufala campana il pan carré eccolo qua che non l'ho preso io sto qua della san carlo questo qui sei più sei fette per spararmi toast ho presi ben due che erano in offerta 0 59 e salmone all'olio di oliva amico scola melo cotto al vapore quando lo fai 4 euro 45 scusatemi 4 euro e 95 ma sono fatta proprio il prosciutto crudo è un minuto momento 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 il crudo il crudo eccolo qua nell'arro bagnati snello 1 euro e 30 di sconto 3 ore 29 più o meno mi hanno pagato questo qua da 3 ore 29 meno 1 euro e 30 un'altra fetta di pan carré poi vabbè ho preso ho preso anche questo che era in offerta sempre tutto un euro no su quello presa tutto un euro sì questo quello preso a un euro il romagnati snello ben due di questi ho preso questo qua me lo ricordo perché erano lì davanti 15 la mozzarella santa lucia ben due un euro e 16 eccole qua queste cose un buonine le mozzarella e light della santa lucia gabbani sono buonine sì 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 va bene poi 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 o guardate qua ragazzuoli i fazzoletti dei puffi i fazzoletti dei puffi la ci sono le creazioni resina che ve le farò vedere sono venute male questo e queste qua mi devo conservare sti pacchetti perché guarda sono troppo guardate questo qua con la puffetta grande puff questo qua con la puffetta se questo gli è venuto mezzo boh comunque posso un puffo forzuto puffetta grande puffo busto boh questa deve essere selvaggia boh allora e i fazzoletti dove cavolo li ho visti i fazzoletti 0 99 poi abbiamo aglio confezionato olio aglio l'aglio confezionato antidracula to papà vampirizzati to vampiro l'aglio confezionato dove sta un euro e 59 la farina la farina 0 55 eccolo qui marchio ocean eccolo qua tieni tipo 00 pigliettele allora la ricotta vallelata la ricotta vallelata un euro e 0 7 quelle quelle belle grosse la ricotta fresca eccolo qua due di queste pigliettele poi 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 ancora un'altra mozzarella poi i limoni i limoni i limoni limoni e io li vedo poi dopo li perdo accidentaccio 0 99 limoni mostra i tuoi limoni eccoli qui eccoli qui eccoli qui da voi sei uova cocco di cocco di vabbè sono due invece un euro 89 cocco di big eccole qua le grandissime qua poi ancora uova a marchio ocean grandissime a marchio ocean dove cazzarola sono cipolle 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 bianche 0 99 aglietto e cipollina le belle cipolle per 0 99 ti è toh le cipolle toh eccolo qui poi zucchine verdi sono queste qui appena tirato un'unghiata queste qua le zucchine verdi soliti tre zucchine che prende 0 84 centesimi te pigliette le zucchine poi mi son presa gli elastici per regare i capelli per la sfilata in divisa domani gli elastici 2 euro minchia i limoni li abbiamo fatti già vedere sia mozzarella si le patate rosse 2 ore 29 che sono caso che schi eccole qui si vedono papà queste uova quale vedo molto alla me eccole qua le patate rosse e sono quanto sarà un chilo di più saranno due chili queste saranno un paio di chili poi il tè a limone poi dobbiamo far vedere le ovette e dobbiamo fare il video di quello che troviamo nell'ovette della pasqua passata il tè esatto papà mostratelo eccolo qui nel san benedetto è un alcolizzato due stanno in macchina e una alla portata eccola qui e vabbè vuoi bertelo no vabbè non c'è sfizio se lo dici cattivone poi si è pigliato anche la gassosa san benedetto fa la stessa cosa perché se lo soffendono eccola qua eccola qua la sua gassosa san benedetto accidenti cavolo è la gassosa la gassosa la gassosa o eccola qui 0 69 il cotto snello si esatto la baguette rustica la baguette rustica un euro eccola qua il dentifricio che anche noi ci laviamo i denti della z 3d white dentifricio 2 euro e 55 mazza quanto costa lavarsi i denti e vabbè il tè al limone tè al limone niente bobo le uova della bauli esatto questo qua ci dovrebbe essere regalo un pupazzino e due invece sono già in giro che ancora qualcuno di me e mi ma non adesso l'ho preso in un'altra volta ma non ho fatto il video perché sono una testa di cavolo e vabbè e vabbè e intanto vi faccio vedere le creazioni resina che vanno messe a posto gli deve dare una sistemata il caro paparino perché questa cosa è storta se riesce a metterci qualcosa sopra se no la tengo così e quest'altra pure purtroppo se piegata se piegato un angolino qua però si può raddrizzare in qualche maniera ma intanto guardate che colore guardate che bella questa invece è perfetta e poi c'è quest'altra civettina che però non so dove è ah è lì è lì sotto vabbè ve la farò vedere nel prossimo facciamo le creazioni in resina le scopriamo insieme e vedremo qua ci dovrebbe essere un pelusciotto attaccato bauli cucciolotti family spero di trovare l'elefantino un tenero pelusci non di uvo sono tutti belli vabbè poi faremo l'unboxing intanto io e puffi vi salutiamo la pa saluta ciao buonanotte a tutti vabbè anche buona giornata e quando ti vedono vedrai e auguragli buona giornata no giornata eccolo qui ma quanto esplicito tante volte o mamma mia mamma papà ma vuoi ciao ragazzuoli ciao sarete ciao a tutti ciao francesca ciao